Sanremo, IM, 18 marzo 2016 e il gran giorno della Milano-Sanremo 2017. L'ultima maglia arcobaleno a sfrecciare davanti a tutti sul rettilineo di Via Roma è stata quella di Beppe Saronni. Il 19 marzo 1983, da allora, 34 anni sono passati e nessun altro campione del mondo in carica è più riuscito a vincere la classicissima A di Primavera. Ci riprova, oggi, quel fenomeno che risponde al nome di Peter Sagan. Il percorso è quello ormai noto. Gli orari, la corsa è partita poco dopo le 10 da Milano. La diretta TV parte su RaiSport dalle ore 13 e in simulcast su Rai2 a partire dalle 14. Live anche su Eurosport 2 dalle 14.15. Crono tabella. Le ultime edizioni sono state coperte ad una media intorno ai 42 chilometri all'ora, ipotizzando un'andatura analoga anche oggi. La corsa, che scatta da Milano alle 10.10. Transiterà sul passo del Turchino alle 13.41, attaccherà la sequenza dei capi, mele, cervo e berta alle 15.47 ora del passaggio previsto dalla Igueglia. Sarà sulla Cipressa alle 16.37 e in cima al Poggio alle 16.59. L'arrivo in via Roma, pochi minuti più tardi, alle 17.06, minuto più e minuto.